Un incontro e confronto per parlare delle opportunità nel settore agroalimentare sul nostro territorio è un incontro che è promosso da Confartigianato e ha il patrocino del Comune di Arezzo. Si svolgerà qui all'Informa Giovani. Per questo appuntamento in programma il 12 dicembre alle 16, qual è l'impostazione che gli avete dato? Un'impostazione molto informale però molto concreta. Chiamare i ragazzi e dire siete interessati, potete essere interessati a un mestiere nell'ambito del food. Allora ci sono dei lavori che sono già pronti, ci sono imprese che stanno cercando, quindi questo può essere per chi fa rincontrare l'offerta con la domanda. La seconda, se uno vuole mettere su un'attività di questo tipo, cioè all'interno dell'ambito del food, siamo in grado di aiutarlo in tutte le sfaccettature e poi per quello che riguarda la terza possibilità acquisire un'impresa che è già attiva e quindi ha problemi di ricambio generazionale, quindi fa rincontrare questa domanda con quell'offerta. È un problema però, Assessori, in fondo questo che non riguarda soltanto i giovani. Riguarda purtroppo tutta la società, principalmente chiaramente la fascia dei giovani, i giovani inattivi, i cosiddetti NIT. Iniziative come questa vanno nella direzione di combattere questo fenomeno negativo dei nostri tempi con Farticianato che rappresenta l'eccellenza, il settore alimentare del nostro territorio e aperto a tutti, anche a chi non è più giovane, perché chiaramente nonostante siamo qui nel luogo deputato agli interessi delle nuove generazioni, però si cerca di dare una mano alla città stessa.